bravo chissà una domanda vediamo se lo sai che è il più forte di sempre ah tu ah ok questo è il mio cagnolino quella che abbiamo prenotato tutti buonasera signori avete il green pass bene perché non serve a nulla mi fate vedere il super green pass rinforzato e che super vai il green pass ma c'è che fai tampone ragazzi ho sperato mi sono accomodato qua sul tavolo e ho trovato un portafoglio così smarrito l'ho aperto e all'interno c'è una carta da paypal ci sono anche un botto di soldi non so quanti e non voglio vedere e ho visto che ci sono anche i dati questo qua va pure a scuola va tipo a nord hollywood high school il suo nome c'è se sarà varez martine ragazzi ok sembra un nome di un calciatore argentino ma lasciamo stare ho cercato su instagram ma niente non riesco a trovarlo quindi adesso due sono le opzioni o lo do al tipo di beneggeris della gelateria ma non mi sembra un'ottima scelta oppure semplicemente chiamo la polizia lo consegna alla polizia e poi loro prometteranno consegnando ci sono le risposte niente da fare se i social do i social non ci fai no